Anche Chieti si mobilita per il popolo ucraino, in particolare la chiesa ortodossa che è qui a Chieti Scalo sta organizzando dei pulmini privatamente per portare i beni di prima necessità. È possibile consegnare tra l'altro durante tutti i giorni, dalla mattina fino alle 19, chi vuole può venire. Padre Anatoli, cosa state organizzando? Noi abbiamo organizzato due cosiddetti ponti. Una volta, come avete visto, quando più o meno, adesso vediamo che stamattina sono partiti due pulmini piccoli allora questi piccoli furgoncini arrivano in due direzioni. Uno va al confine tra Polonia e Ucraina e un altro va al confine con Romania e Ucraina. Arrivando lì ci sono loro amici volontari, anche volontari dell'esercito, che li aspettano. Loro scaricano aiuti di prima necessità e quelli aiuti di seconda necessità. Cioè, prima necessità, qualsiasi medicina che toglie il dolore, eccetera, questa è prima necessità e loro subito spero e cerco e prego che portano proprio alla fronte o in ospedale dove c'è bisogno, perché veramente c'è bisogno. E un'altra, seconda necessità, come avete visto, il latte in polvere per bambini, omogenizzati per bambini, vestiti, scarpe, calze, tutto. Chi volesse portare qualcosa può farlo qui, può venire nella parrocchia di Viale Abruzzo, Chietiscalo, 122. Da che ora a che ora? Noi abbiamo fatto per il momento orari così, dalle 9 più o meno fino a 19.20, no? Però mi raccomando veramente, domenica, per favore non portate niente, perché noi accumuliamo e spediamo, accumuliamo e spediamo, accumuliamo e spediamo, però domenica, vedete, spazi sono questi.